Sì esatto, questo è un progetto che Publiacqua ha lanciato con tutti i 45 comuni della Toscana centrale, cioè dove Publiacqua gestisce il servizio idrico integrato e è un progetto che sta avendo un successo incredibile anche oltre le nostre previsioni, noi abbiamo distribuito oltre 12.000 borracce, le stiamo distribuendo a tutti i bambini e le bambine nelle prime elementari ed è un contributo che noi vogliamo dare per migliorare l'ambiente, perché sono borracce di alluminio, quindi materiali indistruttibili che sostituiscono la plastica e soprattutto per incentivare l'utilizzo dell'acqua del rubinetto, dell'acqua potabile perché è un'acqua controllata, viene controllata ogni giorno, a differenza ad esempio di quanto accade per l'acqua in bottiglia ed è un'acqua sicura e io invito davvero tutti i genitori, tutti i cittadini ad andare sul sito di Publiacqua su www.publiacqua.it nella sezione qualità dell'acqua e risorsa idrica tutti i cittadini possono trovare le analisi dell'acqua e quindi i valori dell'acqua che noi consegniamo al contatore di ogni singolo cittadino, inserendo il proprio indirizzo di casa vengono fuori le analisi dell'acqua, allo stesso modo, in maniera identica a quella che è l'etichetta dell'acqua sulle bottiglie e questo proprio a riprova della grande qualità dell'acqua che c'è nella Toscana Centrale nel servizio idrico gestito da Publiacqua